Ben trovati verso le elezioni del 25 settembre, decima puntata, l'ospite è il consigliere regionale Livio Petitto, intanto Petitto grazie per aver accettato il nostro invito, io partirei proprio da qui per ricordare, Livio Petitto consigliere regionale di quale partito? Del Movimento Davvero, che sosteneva e sostiene il Presidente De Luca. Dunque, Livio Petitto è finito un po' non nell'occhio del ciclone ma nelle prime pagine delle cronache provinciali perché la sera della scadenza per la presentazione delle liste, cioè lunedì sera, ha inviato una lettera al segretario nazionale Letta, oltre che ai vertici regionali e provinciali del partito democratico per dire che restituiva la tessera. Ora, io partirei da qui per raccontare un po' la storia ed è diventato un caso, naturalmente un caso nazionale, partirei da qui Petitto per tentare di capire, al di là anche della lettera, al di là del contenuto in quella lettera, che cosa c'è dietro, cioè come nasce? Io partirei dall'agosto del 2020. Partiamo da dove vuole lei, dall'agosto del 2020, che cosa accadeva nell'agosto del 2020? La sera, prima della presentazione delle liste, fui raggiunto da tantissime telefonate dei vertici nazionali del partito, iniziando da Andre Orlando, che all'epoca era vice segretario nazionale, passando per Graziano Del Rio, che era il capogruppo alla Camera, dall'onorevole Piero De Luca, che mi annunciavano appunto il mio inserimento, la conferma perché ricorderà la diaspora che si era creata con il Presidente dell'Alto Calore, quindi il mio inserimento nella lista del Partito Democratico. All'indomani fui neanche richiamato, appresi direttamente dagli organi di informazione che era stato scelto Ciarcia piuttosto che io. E quindi la sera, appunto, prima della presentazione, la notte, prima della presentazione delle liste, decidemmo appunto di aderire, di fare una nostra lista con il raggruppamento davvero e il partito animalista, ci presentammo e poi fui eletto. E' giusto che stavi alla storia. Sarebbe bastato questo, direttore, per abbandonare un partito che comunque ci aveva messo alla porta, ma io ho continuato a crederci, mi sono illuso. Però non facciamo un salto in avanti in maniera troppo veloce, no, fermiamoci un attimo a quella sera, quella notte, per la verità, in cui lei è stato costretto insieme ad altri suoi amici di creare una lista, una lista per non essere escluso dalle regionali. La domanda è, secondo lei, averla portata fino a quel punto, limite di orario, quindi proprio al limite della scadenza per presentare una lista, era un fatto scientifico, era un fatto avuto, infatti poi in un colloquio intercorso con il governatore mi fu confermato questa volontà, mi disse addirittura… Però rispetto alle persone assenti la pregherei di dire cose che posso verificare. No, assolutamente, attendo una smentita in tal senso. Mi disse che avevo compagni di viaggio sbagliati, così lo disse, anche in modo ironico, come nel suo stile, perché poi dopo, una volta eletto, cercai di trovare un'interlocuzione, ma nell'interesse del territorio, oltre che del mio partito, visto che comunque con l'unico onorevole eletto nel 2018, l'onorevole Umberto del Basso De Caro, abbiamo continuato un percorso, ho creduto in un rinnovamento del partito, partendo dal livello nazionale. subito dopo le elezioni andai a pranzo, ospite del vice segretario Orlando, che si scusò con me per il comportamento che aveva assunto il partito nazionale e mi disse credi in questo partito perché tra poco cambieranno le cose. E le cose sono cambiate? Assolutamente, io ci ho creduto, c'è stata la polemica sul tesseramento, alla fine Zingaretti venne nominato Michele Bordo come commissario del partito provinciale, Zingaretti intanto si era dimesso da segretario ed era subentrato Letta, ho avuto diversi incontri con Marco Meloni, il coordinatore della segreteria nazionale, che ci aveva dato la massima disponibilità e agibilità per poter portare avanti questo rinnovamento anche sul territorio, perché non uscivamo da sette anni di commissariamento in questo partito, ed è risibile leggere le affermazioni dell'attuale segretario quando dice Petitto è sempre stato contro il Partito Democratico. Adesso ci arriviamo, però Petitto io non voglio... Però volevo finire di concludere il percorso. La storia si conosce, la ripetiamo così per sommi capi. Però la domanda che vorrei fare è questa, in politica, ma non soltanto in politica, no, quando accadono delle cose, la domanda che ci si fa è a chi giova, no? Qui protest dicevano un po' di anni fa, no? Un paio di migliaia di anni fa, a chi giova? Cioè, perché il governatore De Luca, che lei ha citato prima, dovrebbe allontanare Petitto? Perché? Cioè, qual è il... c'è una logica, è questo? A chi giova? Perché forse Petitto non rientra in logiche di asservimento che si... io li ho definiti convenzionati, io non sono in vendita. Questa è dura però, eh? Adesso, se lei guarda anche i dirigenti attuali provinciali, chi è dirigente alla regione di nomina, non per concorso, chi è consigliere del governatore in attesa della scadenza dei due anni per la legge Madia per avere poi una presunta retribuzione. Io a questo mercato, sinceramente, delle vacche, io non ci sto. Ho cercato di trovare un'interlocuzione sui problemi del territorio, partendo dall'ospedale, dalla vicenda dell'ospedale Landolfi, perché poi bisogna capire anche come vengono ripartiti i tanti fondi del pieno. Dopo ci arriviamo, però Petitto, la cosa importante per seguire il filologico anche del racconto che lei stava facendo, no? C'è, dopo questa vicenda che lei ha raccontato, lei viene costretto a fare una lista durante la notte, questa lista avrà una grande fortuna elettorale, perché Petitto viene eletto consigliere regionale, anche con un suffraggio molto significativo. dopo però lei si avvicina, no? Si riavvicina al partito? Comunque ci sta dentro il partito, no? Si riavvicina anche al governatore? Ho cercato appunto di trovare un'interlocuzione, ci sono stati più volte incontri, addirittura proposi di fare una legge per le farmacie rurali, ci incontrammo con il presidente dell'ordine del presidente di Federfarma regionale, che è della provincia di Avellino, con i vertici delle farmacie rurali. Il presidente mi promise che avrebbe fatto subito la legge, ad oggi ancora non è stata presentata neanche in giunta e la bozza, io ero pronto a presentarla come consigliere regionale, mi bloccò, disse no facciamo con la giunta perché la facciamo subito, ad oggi neanche questo. Però c'è riscontro poi una certa celerità quando si tratta appunto di garantire la città di Salerno, allora le faccio un paragone, Avellino è stata la città di Avellino la prima in campagna a presentare l'accordo per i PICS, per i fondi PICS, ad oggi a distanza di circa due anni che è stata chiesta la rimodulazione, quindi manca solo una firma per poter andare avanti con il programma integrato, ad oggi il governatore ancora non ha posto questa firma sotto il documento. Ma quale interesse? Non lo so, io penso solo politico, ci mancherebbe altro. Per detto che questa è un'intervista, devo farle anche delle domande, diversamente di un comizio, il comizio qui non ne facciamo, di un comizio non ne facciamo qui. Allora, la domanda è, quale interesse può avere il governatore a penalizzare la provincia di Avellino? Cioè penalizza la provincia di Avellino per penalizzare Peditto? Mi sembra un po' strano. No, non Peditto, c'ha altre priorità, immagino, perché se poi vengono, almeno per quanto leggo, vengono fatte delle delibere di giunta regionale, appunto che si recuperano fondi perenti nelle altre province per assegnarle alla città di Salerno, che ha appena presentato da qualche settimana una richiesta di finanziamento, a me sembra paradossale. Oppure immaginare che vengono finanziati oltre 400 milioni di euro per il Ruggi di Salerno e a Solofra chiudiamo il pronto soccorso e il Santo Bono rischia la chiusura per questa sorta di investimento, stiamo parlando di un ospedale pediatrico che è un'eccellenza in Italia e non solo, allora c'è un campanello d'allarme. Qui una volta eravamo abituati a parlare di Napoli centrismo, ma qua Salerno la fa da padrone e se Napoli è diventata la periferia di Salerno, Avellino non è neanche nelle mappe geografiche per la politica regionale. Allora su questo io mi voglio confrontare con il governo regionale, per quello ho deciso ancora di continuare a stare in maggioranza, però differenziandomi sulle proposte che farò nei luoghi preposti, nel Consiglio, perché il Consiglio, almeno per quanto riguarda questi ultimi due anni di attività che mi vedono protagonista, è stato sviluppo del proprio compito, non si ragiona, non ci si confronta in Consiglio, siamo chiamati solo a ratificare le scelte che fa la Giunta ed è intollerabile perché noi rappresentiamo i territori. Certo, questo è sul piano istituzionale e si può capire anche una sua presa di posizione molto ferma, molto severa, per cui lei, insomma, il governatore, sto nella maggioranza ma sto anche all'opposizione di una certa linea che non condivido. Fin qui si comprende tutto, ma perché lasciare il partito? Dice il segretario provinciale, quindi arriviamo all'oggi, dice è un bene, riassumo, che Petito abbia lasciato il partito perché così finiscono le ambiguità e finalmente lascia capire il partito democratico si rinvigorisce, il partito democratico diventa la cosa che volevamo che diventasse. Allora mi viene da ridere, caro direttore, mi scusi, perché la prima telefonata che ho ricevuto, appena inviata la mail, è stata del segretario Pizza che non mi ha detto le cose che poi ha scritto il giorno dopo. Cosa le ha detto? Possiamo sapere? Capisco che è diventato una sorta di, non lo so, fattorino politico di qualcuno, però penso che, no, mi ha detto appunto che era dispiaciuto, ma perché questa è, io l'ho ricordato e lui ha detto capisco, perché effettivamente… Il fattorino politico le ha portato qualche lettera? Non a me, forse ha consegnato qualche lettera scritta da altri, mettendoci pure la firma sotto forse, però è un mio pensiero per carità, io ricordo Pizza che lo conosco dal 2018 quando da affermato professionista decisi insieme ad altri di appoggiarlo a sindaco della città di Avellino. Poi rimasi deluso perché il giorno dell'insediamento decise non di aderire al gruppo del Partito Democratico, per quello quando lui dice Petitto è sempre stato contro, Petitto è del Partito Democratico, era del Partito Democratico, perché quando gli chiesi stesso io aderisci al gruppo del Partito Democratico, lui scelse insieme appunto agli eletti dell'allora segretario dell'Udc, Maurizio Petracca, decise appunto di seguire Demita, il gruppo dei popolari all'epoca dei fatti, non stiamo parlando di età remote, stiamo parlando di pochi anni fa e poi me lo sono ritrovato appunto dopo che c'era stato lo scontro al comune di Avellino e ricorderete tutti il comportamento che c'è stato l'allora segretario regionale annunziata nei confronti di Gianluca Fest e del gruppo di Umberto del Basso De Caro che ricordo a me stesso era l'unico parlamentare della provincia di Avellino e ben avendo rappresentato il Partito Democratico, anche lì fu omessi in disparte e fu scelta una persona che non aveva neanche la testa del partito, ma nonostante noi chiedemmo di fare le primarie, non ci fecero fare le primarie, quindi i regolamenti non vengono mai onorati in questa provincia, però mi ero illuso che si potesse avviare una nuova fase dopo le interlocuzioni romane, ci ho creduto, ho creduto in Peppe Provenzano che poi è diventato vice segretario nazionale, oltre che ad Andrea Orlando, come spiegavo prima, e infine con Enrico Letta che mi disse qualche mese fa ben tornato a casa, perché? Perché dopo aver chiuso l'accordo e consumato il congresso unitario nel marzo scorso, mi chiese Letta di aderire al gruppo del PD in consiglio regionale, cosa naturale, che io ho fatto? Ho fatto una richiesta ufficiale, anche se era in automatico caro direttore, una volta che mi viene riconosciuta la tessera io di fatto entro a far parte del gruppo consigliare, ma nonostante ciò io per non creare problemi ai miei colleghi del gruppo del PD in consiglio regionale ho chiesto di fare un incontro con tutti i consiglieri, anche il governatore De Luca fa parte del gruppo del PD, aderito anche al gruppo del PD e chiesi di fare un incontro, l'attuale capogruppo, l'onorevole Mario Casillo mi disse fammelo fare prima a me l'incontro e poi appunto lo facciamo tutti quanti insieme, sono contento che sia entrato per la scelta che hai fatto, capisco che è dolorosa per i comportamenti, anche lui si scusò con me perché concorse all'epoca la mia esclusione, ma il gioco delle parti, il gioco delle parti l'avevo superato, proprio per la prospettiva, per dare una prospettiva al mio gruppo, per dare la prospettiva ai tanti amministratori che avevano creduto in me perché pensavo che il PD veramente volesse dare una svolta anche al territorio delle aree interne e quindi Casillo fece questa riunione, ahimè, chi ha osteggiato il mio ingresso nel gruppo consigliere del PD è poi stato il consigliere del PD eletto in questa provincia e mi è stato detto, con il quale avevo sottoscritto un accordo prima delle provinciali. Ma queste cose che ci racconta sono verificabili? E lei la può chiedere tranquillamente al diretto interessato. Cioè lei ha detto che il consigliere regionale Petracca si è messo di traverso per non farla entrare. Ho osteggiato il mio ingresso e Casillo in toni abbastanza accesi perché poi le lascio immaginare, io ho fatto il congresso unitario, ho sostenuto Buonopane alla provincia come mi era stato richiesto e stavamo nelle possibilità anche di non dare il simbolo a nessuno. Ma l'accusa è proprio questa, è che lei con i suoi amici non avete sostenuto il Partito Democratico, il candidato del Partito Democratico. Sto parlando di dicembre, delle elezioni di dicembre e i numeri si possono leggere tranquillamente, basta analizzare la fascia della città di Avellino e quindi si possono verificare tranquillamente, anche un cieco può verificare quello che è successo a dicembre. Siamo stati leali e siamo stati leali fino in fondo, cosa che poi non abbiamo fatto a giugno ma l'abbiamo fatto alla luce del giorno, proprio perché non c'erano più le condizioni del potere andare avanti e abbiamo atteso dopo le provinciali appunto che sia andato a formalizzare le liste, almeno per quanto mi riguarda, perché ripeto è una scelta personale quella che ho consumato, ma avendo un governo regionale contro, un partito provinciale che poi ha fatto una segreteria, il segretario, senza concordarlo con nessuno, se si fa un congresso unitario è giusto che poi quando ci sono delle scelte strategiche nell'organizzazione del partito si facciano con tutti gli alleati, invece noi non siamo stati mai interpellati, una segreteria così numerosa non l'avevo mai vista nella storia di un partito. La rottura definitiva, perché poi si tratta di una rottura definitiva con una piccola contraddizione in termini che vorrei che lei ci chiarisse, è avvenuta con la decisione di Umberto del Basso De Caro di rinunciare, lei fa parte di quella corrente, di quella componente di De Caro, quando De Caro decide di rinunciare alla candidatura, motivandole, è stato mio ospite e qui quindi ha spiegato in lungo e in largo tutte le cose, mi date un collegio che sembra non sia addirittura contentibile senza darmi nessuna garanzia, per me che sono comunque deputato, uscente, sottosegretario nel governo precedente, insomma questa è stata la motivazione, cioè quanto c'entra questa rottura di De Caro, il quale però resta nel partito, è qui la contraddizione in termini, cioè Petito esce e De Caro resta, è così? Perché le storie sono diverse e le prospettive anche. Mi conferma che De Caro è rimasto, abbiamo letto, abbiamo ascoltato, io mi sono confrontato con lui e lui ha cercato più volte di farmi desistere, io ho atteso, anche perché sinceramente non ho condiviso quella che poi è stata l'impostazione nazionale, per un anno e mezzo, letto dal suo insediamento, ci ha sempre detto ragioniamo sul campo largo con i 5 Stelle, capisco è caduto il governo Draghi ed è stata una tragedia per il nostro paese, ma poi non puoi caricarti, a differenza dei 5 Stelle che non hanno votato per una volta la fisica, si sono astenuti, non hanno votato contro, noi ci siamo caricati, fratto gli anni… La crisi è stata aperta dai 5 Stelle, attenzione però, questa è storia politica… E le crisi si possono anche superare, si possono anche superare, con la politica ovviamente, nell'interesse del Paese. Però manca a farlo apposto anche Boccia, proprio l'altro giorno, Boccia che era tra i fautori, addirittura di una collaborazione con i 5 Stelle dopo il 25 settembre, ha dovuto riconoscere per i fatti accaduti di Cilia, questi sono inaffidabili, adesso il discorso si chiude qui… Però in un anno e mezzo questo non l'hanno registrato, nel momento in cui si poteva estaurare di nuovo un rapporto in vista della scadenza elettorale imminente, si è chiusa la porta in faccia ai 5 Stelle e si è caricati sul carro del centro-sinistra la sinistra della della moglie di Fratoianni, che ha votato 55 volte contro la fiducia del governo Draghi. Ci sono delle contraddizioni in termini che dovrebbe chiarire il segretario e non puoi esordire in una campagna elettorale dicendo a fronte del centro-destra che dice aumentiamo le pensioni minime a 1000 Euro, poi lasci stare che sono slogan che ormai da 30 anni ascoltiamo, non puoi dire io metto la patrimoniale, è qualcosa veramente di devastante, io non ho capito se c'è la volontà a perdere, però non è un problema più che mi appartiene per quanto mi riguarda, ma poi c'è da dire un altro fatto che è devastante per la regione di Campania, tu non puoi caricarti persone dal nazionale, posso capire un ministro, ma la camusso, solo perché forse la CGL al proprio interno aveva dei problemi? Non lo so, questo si dovrebbe chiedere al segretario nazionale Landini, io le riporto qualche notizia di corridoio che ho preso a Roma. Speranza nel collegio di Napoli? Franceschini, ovviamente nel proporzionale, perché è un ministro, alziamo le mani, ma la moglie nel proporzionale a Roma, oppure potrei continuare fuori regione? Bologna, il segretario di Bologna, quarantenne, lo sa che io con i nomi non ci azzecco mai, però il segretario di Bologna del PD, quarantenne, deve cedere il posto a Casini, non a legislatura, oppure Venezia, ex vice sindaco di Venezia, deve cedere il posto a un Piero Fassino, ex sindaco di Torino, scusate, perché non l'avete candidato a Torino? Vorrei capire, ci sono personaggi calati dall'alto che se domani si candidassero nel proprio comune di residenza non sarebbero eletti neanche consiglieri comunali, per me questo non è il partito che mi può rappresentare, io rappresento il territorio e lo farò fino in fondo, per il tempo che mi sarà dato dalla legge, poi lo farò in modo sbagliato, mi sottoporrò al giudizio dei miei cittadini, che hanno scritto il nome di Livio Petitto sotto la scheda del gruppo Davvero e Partito Animalista, io rispondo solo a loro e alla mia coscienza e non ho padroni. Allora, la coscienza, mettiamola sul piano un poco anche della coscienza politica, no? Mi scusi Tony, direttore, però sa, è stata una lettera molto sofferta. Certo, conosco bene i fatti, li ha raccontati bene, poi nella lettera c'è scritto tutto. Senta, a proposito di coscienza, accade che c'è la vicenda del Basso De Caro, il quale viene escluso, del Basso De Caro ha dovuto rinunciare, mettiamola così, ha dovuto, si è visto costretta a rinunciare, d'accordo, perfetto. Però tutto questo poi che c'entra con Livio Petitto che di punta in bianco va a trovare Lupi, che è un altro versato, è vero innanzitutto? Assolutamente no. Lei non è stato con Lupi? No, non l'ho conosciuto, non ho avuto il piacere di conoscere. Perché non ha smentito i giornali che hanno scritto che lei è stato da Lupi? Ma l'ho fatto quando mi è stato richiesto. Se un giornalista scrive una notizia senza neanche confrontarsi con il diretto interessato è libero di fare, sono per la libertà di stampa, ci mancherà. Poi appena ci sarà, mi è stata data l'opportunità, io l'ho chiarita. Questo mi pare molto interessante. La notizia, meglio, la notizia, l'indiscrezione che è passata è che lei è andato da Marcello Lupi, centrodestra, a Maurizio, chiedo scusa, a proporsi come candidato per le politiche. Le spiego. È vero o no? No, assolutamente no. Lei sa perfettamente che io il mercoledì e il giovedì, so sempre a Roma, anche perché ho lavorato, dipendo ancora da Roma, anche se sono in aspettativa dall'ispettorato viminale, e continuo i miei rapporti, appunto la rete di rapporti umani oltre che politici. Una sera, a cena con degli amici, ho conosciuto dei collaboratori del partito Noi per l'Italia e mi hanno proposto così, in maniera molto cortese devo dire, cioè vuoi capeggiare la lista al plurinominale nel collegio Avellino Salerno per noi centristi? E io ho declinato l'invito, semplicemente declinato l'invito, visto che forse c'erano altri amici e originali di Avellino, forse questa notizia poi è stata strumentalizzata, vabbè ma fa parte del gioco, ne sono consapevole, però non c'è bisogno neanche di… Lei non ha mai chiesto, no, questo mi pare un dettaglio molto molto importante, perché poi su questo dettaglio è stata costruita tutta una storia abbastanza ad artere, lo dice, lo sta spiegando ora, mi fa piacere che lo spiega qui da noi, quindi non è vero tutto questo, lei non si è mai autocandidato con nessuno? Non avevo né la forza né la voglia, devo dire, anche perché, le ripeto, ho atteso per inviare la lettera la scadenza ultima per la presentazione delle liste, perché per me è vergognoso, come diceva lei nell'introduzione, nell'introdurre la domanda, è vergognoso che un parlamentare così radicato sul territorio come Umberto del Basso De Caro, che ha avuto un'indicazione ad unanimità di due federazioni, Avellino e Benevento, non potesse rappresentare nella lista del plurinominale al Senato, ad esempio, o alla Camera per Benevento e Caserta, appunto il Partito Democratico, come è immaginabile che il Presidente del Consiglio regionale, al Presidente del Consiglio regionale, l'On. Gennaro Oliviero, non venga concessa la deroga a potersi candidare anche nel collegio plurinominale Benevento e Caserta, perché deve essere candidato un amico di Letta, che non è stato neanche eletto Consigliere regionale, ma è consulente del Governatore De Luca, l'On. Stefano Graziano. Io non capisco veramente la razio, se non quella appunto di accontentare il Governatore De Luca, che forse aveva qualche problema familiare appunto da dover garantire. Petito, lei ha raccontato la sua verità sul passato e sul presente, dico la sua perché ci sono alcuni passaggi che non posso verificare, non ho la possibilità, però insomma, fino a proprio contraria, Petito è persona meritevole di fede, per cui non ci sono problemi su questo. Sono a disposizione per qualsiasi confronto. A meno che non... beh, se qualcuno desidererà fare un confronto per smentirla, lo organizziamo certamente, anche perché diventa giornalisticamente molto interessante, pepato. Lo sa che non mi sottraggo, lo sa perfettamente. Parliamo del futuro, abbiamo soltanto pochi minuti per parlare del futuro, anche perché non so se lei ha tanto da raccontare sul futuro, il passato e il presente si racconta, il futuro insomma, tutto a più si può immaginare. Il 25... le faccio una domanda bella secca, senza affrontoli, no? Il 25 settembre si va a votare, a meno che Petito non ha deciso di astenersi dal voto, immagino che andrà a votare per qualcuno. Personalmente voterò. Il voto è segreto, però lei è un esponente politico. Questo glielo volevo ricordare che il voto è segreto, ma comunque io mi muoverò insieme al gruppo. Io sono stato eletto come civico e continuerò a parlare con i miei amici, i miei sostenitori, i cittadini, perché a loro rispondo. Quindi insieme decideremo il da farsi. Certamente questo Partito Democratico, anche dopo la lettura del comunicato stampa da parte del segretario provinciale, non ci può rappresentare. Cioè quel PD, se ho capito bene, se posso permettermi di tradurre, ma non c'è manco bisogno. Il PD di Pizza, il PD di De Luca. Con il PD è definitivamente chiusa la storia politica di Petito. In politica mai dire mai poi. Con questo PD io non vorrò più dialogare. Senta, posso fare una domanda un po' indiscreta, anche perché il mio mestiere devo farlo fino in fondo, no? E lo fa bene. Ma nella sua testa c'è un orientamento, parlo del voto, parlo non delle posizioni definitive, ma comunque un consigliere regionale sta sul campo, quindi una indicazione di voto probabilmente dovrà pure farla, no? Sennò che politico è? Cioè il 25 settembre ci sta nella sua testa un orientamento, un'idea, un desiderio? Chiamiamola come vuole. Allora, sarei scorretto nei confronti degli amici, dei tanti amministratori, che sono centinaia in questa provincia. Adesso sta parlando di politiche. Allora, io dovrò confrontarmi prima con loro e insieme prenderemo una decisione. Di questo le posso essere certe e come sempre nel mio stile ci metterò la faccia. Allora, posso permettermi di insistere, no? Capisco, è corretto il passaggio con i tuoi, lo ha sempre fatto, ho creduto. Ma posso permettermi di insistere? Sicuramente non ci sto. La sua idea, c'è un'ipotesi nella sua idea? Allora, le spiego, direttore. Noi abbiamo deciso anche con gli altri amici. Posso entrare nei suoi segreti? Gli altri amici di Napoli, gli altri amici di Salerno, altri amici di Benevento e di Caserta di federare il gruppo davvero, quindi farla diventare una realtà regionale, perché insieme ad altri amici che provengono da altre esperienze politiche, penso che possiamo essere determinanti in qualsiasi competizione elettorale. Ovviamente cercheremo chi sposerà le nostre idee. Le assicuro che dall'E2001 dell'altra sera, che ho consegnato la lettera, le telefonate sono state tantissime, dal Movimento 5 Stelle alla Lega, passando per Fratelli d'Italia, Forza Italia, tutti i partiti mi hanno chiamato. Senti, finito, capisco la sua riservatezza. Oltretutto abbiamo soltanto quanti secondi, sette secondi, proprio il tempo per dare una risposta secca. È ipotizzabile un orientamento di Petitto del suo gruppo, se sarà d'accordo verso il centro-destra, visto che c'è stata la rottura con PD e quindi con il centro-sinistra, abbia pazienza, non penso che potrà andare a dare... Le risponde in maniera lapidaria. Sicuramente verso il centro. Sicuramente verso il centro, che può significare anche centro-destra, perché poi questo centro è un po' un oggetto misterioso, diciamo che è un'area grigia dove tutto è possibile. Appartiene anche alla mia storia, perché io nasco come giovane popolare, poi sono stato nella Margherita e poi insieme al gruppo che all'epoca faceva capo a Nicola Mancino siamo entrati nel Partito Democratico. Una coincidenza che anche Gianfranco Rodondi, che è candidato col centro-destra, sia di quell'area di centro, tutto sommato, e che si dici come lei? Con Gianfranco c'è un rapporto di amicizia storico, che è continuato anche durante le mie esperienze romane, però dal punto di vista politico siamo stati distanti nel passato. Certamente Avellino ha bisogno di autorevolezza politica che ormai da troppi anni, diciamo, manca. Dobbiamo chiudere. Se Gianfranco possa essere, possa rappresentare, andare a colmare quel vuoto che ormai da oltre un decennio regna nella provincia di Aviv. Allora, io non le chiedo più di rispondermi perché il tempo è scaduto, però già che faccio un brutto mestiere che oltre a raccontare, oltre a fare cronaca, è anche un mestiere di interpretazione delle cose che si ascoltano, le cose che lei ha detto, posso interpretare che molto probabilmente Petitto concentrerà la sua attenzione, non parliamo neanche di voti, su Gianfranco Rotondi? Petitto vuol dire che non voterà Petraca. Bene, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere perché ha detto tutto, oltretutto, quindi dobbiamo proprio chiudere. Grazie a Petitto per essere stato qui. Naturalmente ha lanciato anche un invito ad un eventuale confronto e già che in questa nostra televisione, il Pina TV, c'è la massima libertà di confronto, di opinione, di tutto, purché non ci siano diffamazioni, l'invito è lanciato, chi vuole confrontarsi con Petitto, posso dirlo? Assolutamente sì. Venga qui, saranno tutti, saranno ospiti nostri molto molto graditi. Grazie ancora Petitto, grazie a voi, arrivederci con la prossima che sarà la undicesima puntata di Verso le elezioni del 25 settembre. Grazie a tutti.